Genesi Nel principio Dio creò il cielo e la terra, ma la terra era deserta e disadorna e vera tenebra sulla superficie dell'oceano e lo Spirito di Dio era sulla superficie delle acque. Dio allora ordinò Vi sia luce e vi fu luce e Dio vide che quella luce era buona e separò la luce dalla tenebra e Dio chiamò la luce giorno e la tenebra notte. Poi venne sera poi venne mattina un giorno Dio disse ancora Vi sia un firmamento in mezzo alle acque che tenga separate le acque dalle acque e avvenne così Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento e Dio chiamò il firmamento cielo Di nuovo venne sera poi mattina secondo giorno e Dio ordinò Le acque che sono sotto il cielo si accumulino in una sola massa e appaia l'asciutto e avvenne così Dio chiamò l'asciutto terra e alla massa delle acque diede il nome di mari e Dio vide che questo era buono Dio comandò ancora La terra faccia germogliare la verdura le graminacee produttrici di semenza e gli alberi da frutto che producano sulla terra un frutto contenente il proprio seme ciascuno secondo la propria specie E così avvenne La terra produsse verdura graminacee che facevano semenza secondo la propria specie ed alberi che portavano frutto contenente il proprio seme ciascuno secondo la propria specie Poi Dio vide che questo era buono Così venne sera poi mattina terzo giorno Di nuovo Dio ordinò Vi siano delle lampade nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte siano segni per feste per giorni e per anni e facciano da lampade nel firmamento del cielo per illuminare la terra la lampada grande per il governo del giorno e la lampada piccola per il governo della notte e le stelle Poi Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra per governare il giorno e la notte e per la separazione tra la luce e tra la tenebra E Dio vide che era buono E venne sera Poi mattina Quarto giorno E Dio disse Brulichino le acque ed un brulichio d'esseri viventi e volatili volino sopra la terra sullo sfondo del firmamento del cielo E così avvenne Dio creò i grandi cetacei E tutti gli esseri viventi guizzanti di cui brulicano le acque secondo le loro specie E tutti i volatili alati secondo la loro specie E Dio vide che era buono Allora Dio li benedisse dicendo Siate fecondi moltiplicatevi e riempite le acque dei mari E i volatili si moltiplichino sulla terra E venne sera Poi mattina Quinto giorno Di nuovo Dio ordinò La terra produca esseri viventi secondo la loro specie Bestiame e rettili e fiere della terra secondo la loro specie E avvenne così Dio fece le fiere della terra secondo le loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie E Dio vide che era buono Finalmente Dio disse Facciamo l'uomo a norma della nostra immagine come nostra somiglianza affinché possa dominare sui pesci del mare e sui volatili del cielo sul bestiame e sulle fiere della terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra Dio creò gli uomini a norma della sua immagine a norma della immagine di Dio li creò maschio e femmina li creò Quindi Dio li benedisse e disse loro Siate fecondi e moltiplicatevi riempite la terra e soggiogatela e abbiate dominio sui pesci del mare sui volatili del cielo sul bestiame e su ogni essere vivente che striscia sulla terra Poi Dio disse Ecco Io vi do ogni sorta di graminace produttrici di semenza che sono sulla superficie di tutta la terra e anche ogni sorta di alberi in cui vi sono frutti portatori di seme essi costituiranno il vostro nutrimento ma a tutte le fiere della terra a tutti i volatili del cielo e a tutti gli esseri striscianti sulla terra e nei quali vi è l'alito di vita io do come nutrimento l'erba verde e così avvenne Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco che era molto buono e venne sera poi mattina sesto giorno